Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Faccio questa breve introduzione per spiegarvi come ho intenzione di raccontare la nostra, ovvero mia e della mia ragazza Francesca esperienza in Costa Azzurra quest'estate Percorriamo insieme la rotta che va da Marsiglia a Barazzi in Liguria divisa in 7 tappe Caricherò quindi oltre a questo altri 6 vlog per raccontare al meglio la nostra esperienza Non perdiamo tempo e iniziamo subito con la prima tappa, Marsiglia, buona visione Quella alla mia spalla è l'abbazia di San Victor Qui in Marsiglia e adesso ci dirigiamo alla cattedrale di Notre Dame sulla collinetta Eccoci qua allora con tutto questo bellissimo tempo ci troviamo alla basilica di Notre Dame De Garde che è esattamente questa Grazie a tutti Allora sul Super Franci, pareri di questa Notre Dame de la Garde? Molto bella Molto bella, piena di gente, pienissima, però ne vale la pena Andrebbe visti nei periodi non attuali però E' comunque bella Ora siamo nella via che ci porta direttamente al centro storico, la piazza Principale di Marsiglia Tutto tipico, bello, ne ha mangiato due baguette buonissime E si prosegue Ok, si prosegue con il nostro tour Ora è la volta del porto vecchio di Marsiglia Tipico il caratteristico della città Grazie per la visione